Una piazza virtuale con la quale mettersi alla prova, portare e condividere le proprie idee, traendo nuovi spunti anche attraverso il confronto con le realtà di estremo spessore del mondo delle aziende. Questa è stata Officine Italia, l'evento online che si è tenuto lo scorso fine settimana, che ha messo insieme giovani imprenditori o aspiranti tali, suddivisi in tre gruppi di lavoro, bellezza, talento e network. È stata per tutti quei giovani meritevoli che vi hanno partecipato l'opportunità per implementare le proprie skills, io quale mentore e quale relatore di questa tre giorni, insieme ai principali personalità del mondo economico, manageriale ed accademico a livello nazionale ed internazionale, siamo riusciti a indirizzare e a valutare i progetti di questi giovani che hanno preso parte, oltre 2.100 ragazzi, che hanno preso parte appunto a questo grande appuntamento virtuale e soprattutto è stata l'occasione di dare un contributo sostanziale alla formazione delle nuove generazioni. Abbiamo avuto quali relatori membri dei board di Luxottica, di Saipem, di Cisco, del gruppo Astaldi, abbiamo avuto la Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea, abbiamo inoltre avuto numerose realtà accademiche di rilievo presenti, tra cui la Bocconi, la Luis Guido Carli e la Normale di Pisa. Riteniamo che possa essere davvero l'inizio di una concreta speranza per le future generazioni, per far sì che queste possano credere nei propri sogni e possano anche concretizzarli e soprattutto che sappiano che c'è un paese che crede in loro.